Nietzsche, il cammino di Dio sulla Terra Friedrich Nietzsche, 1844-1900, quasi contemporaneamente a Marx, prende posizioni sulla dialettica e sulla concezione hegeliana della storia. L'aspetto che più disturba Nietzsche è la chiusura del sistema hegeliano. Nella dialettica hegeliana non via libertà, anzi, da essa scaturiscono una filosofia e una concezione della storia che educano alla sottomissione e al servilismo. Da Nietzsche, utilità e danno della storia, 1874. Credo che in questo secolo non ci sia stata nessuna deviazione o svolta pericolosa della cultura tedesca che non sia diventata più pericolosa ancora per l'enorme influenza fino a questo momento dilagante di questa filosofia, ossia della filosofia hegeliana. Una tale maniera di considerare ha abituato i tedeschi a parlare del processo del mondo e a giustificare il proprio tempo come il risultato necessario di questo processo del mondo. Una tale maniera di considerare ha messo la storia al posto delle altre forze spirituali, l'arte e la religione, come unicamente sovrana, in quanto essa è il concetto che realizza se stesso, in quanto essa è la dialettica degli spiriti dei popoli e il giudizio universale. Questa storia, hegelianamente intesa, la si è chiamata con lo scherno il cammino di Dio sulla terra, il quale Dio però viene fatto solo dalla storia. Ma questo Dio è diventato nei crani degli hegeliani trasparente e comprensibile a se stesso e ha già salito tutti i gradini dialetticamente possibili del suo divenire fino a quell'autorivelazione, sicché per Hegel il punto e il vertice terminale del processo del mondo si sono identificati con la sua stessa esistenza berlinese. Egli anzi avrebbe dovuto dire che tutte le cose che vengono dopo di lui sono propriamente soltanto una coda musicale del rondò della storia mondiale e che, ancora più propriamente, esse sono da giudicare superflue. Questo egli non l'ha detto. In compenso ha estillato nelle generazioni da lui lievitate quell'ammirazione di fronte alla potenza della storia, che praticamente si trasforma ad ogni istante in nuda ammirazione del successo e conduce all'idolatria del fatto. Per tale idolatria ci si è oggi generalmente esercitati nell'espressione molto mitologica e inoltre davvero ottimamente tedesca tener conto dei fatti. Ma chi ha imparato a incurvare la schiena e a piegare la testa davanti alla potenza della storia, in guisa cinesemente meccanica, fa da ultimo cenno di esse a ogni potenza, sia poi questa un governo o un'opinione pubblica, o una maggioranza numerica, e muove le sue membra esattamente al ritmo in cui una qualsiasi potenza tira il filo. Se ogni successo contiene in sé una necessità razionale, se ogni avvenimento è la vittoria di ciò che è logico e dell'idea, allora ci si mette subito giù in ginocchio e si percorra poi inginocchiati l'intera scala dei successi. Da Nietzsche, Considerazioni intellettuali, volume 3, pagina 326-328.